Cardiologia a rischio collasso, l'allarme della Will per l'ospedale di Castelnuovo Garfagnana dovrebbero esserci 6 medici, ma ce ne sono solo 3. Verde urbano e piste ciclabili, pronte risorse regionali, finanziati 5 milioni di euro, progetti anche per Lucca, Capannori e Alto Passo. Ripartire dalla scuola, ma bisogna crederci, da Ciamaraini, ospite di Noi TV, spiega perché la ripresa deve necessariamente iniziare dai giovani e dalla cultura. Il calcio, Seravezza-Corsaro affonda il Ghibiborgo, i verdazzurri di Vangioni vincono 2-1 il derby di Banni di Lucca con un micidiale 1-2 in avvio di ripresa. Si complica la posizione della squadra di Venturi. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito anche dai titoli, l'apertura dedicata all'allarme lanciato dal sindacato Will sulla condizione della cardiologia dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana. Cardiologia che sarebbe a rischio collasso. Manca il doppio dei medici attualmente in servizio. Sentiamo Egidio Conca. La cardiologia dell'ospedale Santa Croce a Castelnuovo Garfagnana rischia il collasso. Dove dovrebbero esserci sei medici, ce ne sono soltanto tre. L'allarme lo lancia il sindacato Will, aggiungendo che in questa situazione non si può gestire una struttura che deve avere il medico in servizio sulle 24 ore. A tutt'oggi, spiega la Will, non sembra che vi siano state rimodulazioni del servizio né rotazione di personale da altre sedi. Quel che è peggio, dice ancora il sindacato, è che l'azienda non applica gli istituti contrattuali previsti con i quali acquistare ore al di fuori dell'orario istituzionale, tali da far fronte alla situazione emergenziale. La Will ha deciso di intervenire dopo aver raccolto la preoccupazione dei dipendenti, che attendono da settimane una soluzione, ed ha chiesto un incontro alla direzione aziendale per essere informata su quelli che saranno i provvedimenti che verranno adottati. La situazione in Valle del Serchio è esplosiva, conclude la Will, e ormai non si tratta più di riorganizzare, ma di correre ai ripari. Ma quello di cardiologia non è l'unico caso che sta agitando il Santa Croce. A suscitare discussione c'è anche il possibile pensionamento del dottor Gino Soldati, ecografo di fama internazionale e direttore della struttura di ecografia interventistica e d'urgenza. La sua uscita di scena sarebbe un duro colpo per l'ospedale, e lo testimonia il fatto che diversi telespettatori ed anche operatori ospedalieri ci hanno contattato per manifestare la loro preoccupazione. È arrivato un intervento della ASL che in sostanza conferma che la situazione non è di facile risoluzione a causa della carenza sul territorio nazionale di medici specialisti, in particolare cardiologi. Negli ultimi mesi, scrive, L'ASL sono state utilizzate tutte le graduatorie in essere per assunzioni a tempo indeterminato, determinato e tutti gli istituti contrattuali possibili, sempre con esito negativo. Al momento l'ASL garantisce le ore necessarie attraverso i professionisti delle cardiologie di massa, Lucca, Livorno, Pontedera e Viareggio, ma sono in corso approfondimenti per una soluzione organizzativa alternativa. Rimaniamo in tema sanitario. È arrivato il momento di fare il punto sulla curva del contagio. Dati che sono in aumento nella nostra regione, in Toscana, dove si mantengono stabili i ricoveri e le terapie intensive. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i numeri attraverso le nostre grafiche. I nuovi contagiati in Toscana sono 1.168, 234 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività sale al 4,6%, ieri era al 3,9%. 1.946 pazienti ricoverati, meno uno rispetto a ieri, di cui 282 sono in terapia intensiva. Diminuiscono anche qui di una unità. Si registrano ancora purtroppo 32 decessi, l'età media è di 80 anni e mezzo, di cui 5 sono nel nostro territorio provinciale. Veniamo dunque ai numeri per quanto riguarda la provincia di Lucca. 107 nuovi casi di positività, 11 in più rispetto a ieri. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono distribuiti. 56 nella piana di Lucca, di cui 8 ad Alto Passo, 30 a Capannori, 10 a Lucca, 1 a Pescaglia e 7 a Porcari. 11 casi di positività in Valle del Serchio, 4 a Barga, 1 a Borgamozzano, 2 a Castelnuovo di Garfagnana, 2 a Coreglia e Antelminelli, 1 a Minucciano e 1 a Villa Colle Mandina. 40 nuovi casi di positività in Versilia, 6 a Camaiore, 5 a Forte dei Marmi, 6 a Massarosa, 2 a Pietrasanta, altri 2 a Seravezza e 19 a Viareggio. È lutto nel mondo della scuola lucchese per la scomparsa dell'ex dirigente scolastico Franco Petrini. È stato autore di saggi sulla storia di Lucca e fondatore dell'Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura. Negli anni 90 fu uno degli animatori del Forum dei Progressisti che portò alla candidatura e all'elezione a sindaco Di Giulio Lazzarini. Cambiamo argomento perché sono in arrivo, sono pronti 5 milioni di finanziamenti regionali volti a favorire il verde pubblico e la realizzazione di nuove piste ciclabili e ci sono anche alcuni progetti che riguardano la Piana di Lucca. Sentiamo. 20 progetti di verde pubblico in Toscana saranno realizzati grazie a un finanziamento di 5 milioni della regione e tra questi ci sono anche i progetti presentati da tre comuni della nostra provincia Lucca, Capannori e Alto Pascio. I risultati del bando aperto l'anno scorso e rivolto a 63 comuni toscani situati in zone a rischio inquinamento, come la Piana di Lucca, sono stati presentati dall'assessore regionale all'ambiente Monia Monni. Complessivamente con questi 20 progetti saranno piantate oltre 18 mila specie di cui 7 mila alberi in grado di assorbire 7.400 tonnellate di anidride carbonica. Scopo dell'operazione è infatti quello di realizzare progetti integrati per abbattere l'inquinamento atmosferico attraverso l'aumento del verde nelle aree urbane ma anche con la realizzazione di piste ciclabili. I progetti rimasti fuori dal finanziamento sono 34 ma l'assessore garantisce che arriveranno altri fondi. Voglio rassicurare chi non è entrato nella graduatoria, questa è una misura in cui io credo moltissimo, in cui questa regione crede moltissimo, quindi appena possibile rifinanzieremo a scorrimento questa graduatoria e ho avuto forti rassicurazioni anche dal ministro Cingolani che questa sarà una delle misure poderosamente finanziate nel piano nazionale di resilienza, quindi certamente riusciremo a dare respiro e futuro anche agli altri progetti. Il completamento di tutti e 54 i progetti permetterà al termine di mettere a dimora quasi 43.000 piante con un risparmio in termini di CO2 di circa 17.000 tonnellate. Al contrario adesso parliamo della protesta sollevata dal Comitato San Concordio per la troppa cementificazione, in particolar modo nel mirino il progetto di copertura dell'area ex Gesam. Ci spiega tutto Virginia Torriani. Il Comitato per San Concordio torna a parlare contro la realizzazione della piazza coperta nell'area ex Gesam. I lavori per gettare le basi della struttura dovrebbero iniziare in questi giorni. La grande gettata impiegherà circa 2.600 quintali di cemento, spiega Clara May, per realizzare una soletta che contrasterà la sottospinta della falda acquifera. Ma che andrà anche a coprire alcune testimonianze storiche, la darsena del porto e i reperti del primo impianto ottocentesco del gasometro. Nell'area Gesam i progetti finanziati con i quartieri social, cioè per 6 milioni di euro, la costruzione di una piazza coperta, costruzione fuori misura per dimensioni, che si tratta di una costruzione con una base di circa 2.500 metri quadri, un'altezza di 16 metri, collocata nel posto più sbagliato, perché questo era il sito dell'antico Porta della Formica, si trova di fronte il chiesone, edificio vincolato alla croce industriale, che ha dieci anni che noi chiediamo che quelle strutture pubbliche che il comune intende realizzare nella piazza coperta venissero invece realizzate dentro il chiesone. Ora che il chiesone è diventato di proprietà del comune. Sarebbe stata l'occasione per dire, nel rispetto anche della legge regionale sul consumo del suolo, non costruisco la piazza coperta e queste strutture le faccio in questi immobili inutilizzati che diventano di mia proprietà. Invece, con il progetto Pinqua, il comune ha ottenuto 5 milioni di euro, ha già chiesto 5 milioni di euro, per realizzare nella palazzina degli uffici in via Nottolini 8 alloggi popolari, dove ora ci sono delle tettoie di metalliche fatiscenti, altri 5 alloggi popolari in co-housing, per realizzare nel chiesone un hub per i giovani e per i drivers, cioè per i fattori di bicicletta. Il carico urbanistico dell'area GESA attualmente è zero, perché non c'è niente. Dopo tutte queste realizzazioni, tutto questo avrà un carico urbanistico insostenibile. Virginia Lucchesi è stata nominata nuova amministratrice unica di Luca Holding SPA. Francesca Fazzi, Aldo Gottardo e Marzia Riccomi, sono stati confermati come componenti del Consiglio di amministrazione di Luca Crea, SRL. Francesca Fazzi verrà successivamente designata come presidente nell'Assemblea dei Soci di Luca Holding SPA. Il senatore del PD, Andrea Marcucci, spinge per le riaperture dei teatri all'aperto e per la ripartenza del Summer Festival. Di nuovo Virginia Torriani. Dopo il via libera agli europei di calcio, il senatore del PD, Andrea Marcucci, auspica che l'apertura al pubblico sia estesa anche agli spettacoli e ai concerti all'aperto. Penso in modo particolare al Luca Summer Festival, afferma Marcucci, e a tutto il cartellone degli spettacoli pucciniani a Lucca e a Torre del Lago. La stagione estiva della cultura può essere ancora salvata. Il governo decida. Gli organizzatori della kermessa musicale lucchese già nei giorni scorsi avevano fatto sapere di essere pronti a ripartire e di star lavorando per realizzare a settembre da sei a otto concerti sugli spalti delle mura, prevedendo circa 6.000 posti a sedere. Saranno i luoghi più sicuri al mondo, commentava Mimo D'Alessandro, ottimista per quanto riguarda un graduale ritorno alla normalità anche per il settore spettacoli già da questa estate. La formula per ripartire in sicurezza, secondo D'Alessandro, passa dall'applicazione di rigorosi protocolli anti-covid e, soprattutto, dalla campagna vaccinale. Vaccinatevi è l'appello del patron del Summer Festival. Il vaccino è la salvezza della salute, dell'economia e l'unico modo per ritornare finalmente a vivere. E a proposito di riaperture, la scrittrice, nota e poetessa Dacia Maraini, ospite dell'ultima puntata di Carpe Diem, ci spiega come la ripartenza debba necessariamente passare per la scuola e i giovani. Sentiamo. Una studentessa che prende il volo grazie a un libro aperto sulle spalle a forma di ali, un'immagine leggera per esprimere un messaggio chiaro. L'unica vera ripartenza è possibile riscoprendo l'amore per la scuola. Ne è convinta la famosa scrittrice, poetessa Dacia Maraini, ospite su Noi TV nell'ultima puntata di Carpe Diem, nella quale ha presentato il suo ultimo libro uscito pochi giorni fa, dal titolo La scuola ci salverà. Con lei il giornalista Eugenio Murrali, che ha curato il saggio con lo studio e la raccolta di articoli e racconti della scrittrice, pubblicati sui quotidiani negli ultimi 30 anni e frutto dei suoi numerosi incontri con le scuole di tutta Italia. Un libro che scuote le coscienze, un invito a smettere di lamentarci e a non concentrarsi su quello che non va, ma a puntare su un investimento etico ed emotivo necessario al pari di quello economico. Ma la maggioranza degli studenti ha voglia di capire il mondo, però naturalmente bisogna anche responsabilizzarli, bisogna farli diventare padroni del proprio processo di apprendimento, cioè non l'informazione ma la formazione, un'altra cosa, e va in profondità e ha bisogno proprio di un rapporto molto più intenso con la memoria, con la storia, con l'apprendimento e quindi sono due cose diverse, l'una non esclude l'altra. Non solo scuola, a Carpe Diem si è anche parlato del fenomeno dell'influencer e di come i giovanissimi ne siano attratti. Su questo tema è intervenuta la scrittrice lucchese Flavia Piccini, che ha parlato di una delle sue ultime pubblicazioni bellissime, nella quale svela cosa si nasconde dietro il mondo delle baby miss. Ma anche il sociologo dell'Università di Messina Francesco Pira, il medico chirurgo Alessandro Stefani, che senza mezzi termini si è detto contrario all'esasperazione estetica in voga negli ultimi tempi, spiegando come nulla abbia a che fare con il volersi bene e la cura di se stessi. Continua e anzi è aumentata la cattiva abitudine di alcuni di abbandonare rifiuti lungo le strade. Alcune forme di inciviltà, invece di attenuarsi, si sono addirittura accentuate durante la pandemia. Stiamo parlando della cattiva abitudine all'abbandono di rifiuti in alcune zone del territorio, che come ci troviamo a raccontare sempre più spesso, sta portando ad un fiorire di di scariche abusive, dannose per l'ambiente e il decoro urbano, come quella che potete vedere in queste immagini e che abbiamo scoperto grazie alla segnalazione di un nostro telespettatore. Ci troviamo lungo la via Salzanese, sul tratto di strada che precede l'imbocco del Monte Quesa. Una volta arrivati sul posto, ai lati della strada abbiamo trovato di tutto. Plastica a non finire, elettrodomestici, residui plastici, resti di pneumatici, oltre a sacchetti della spazzatura lasciati in svariati punti lungo il ciglio della strada. Una pratica indecorosa che non cessa di essere consuetudine per incivili, che imbarba la praticità della raccolta differenziata, scambiano le piazzole di sosta come luoghi dove conferire l'immondizia di casa e continuano a ricorrere a questo sistema illecito. Sarà dedicato al comune di Molazzana il prossimo appuntamento di Dido in onda venerdì 16 aprile alle 21 su Noi TV ospite il sindaco Andrea Talani. Per domande e commenti è possibile inviare come sempre sms e whatsapp al 3601038330. È tutto per questa prima parte del TG Noi, facciamo un breve break pubblicitario e poi come sempre la nostra pagina sportiva curata da Guido Casottia. Tra poco.